Salve a tutti e benvenuti all'angolo del gameplay con Crash Bandicoot in outfit estivo. Lo so, se vi da fastidio la cannottiera non importa, io mi vesto come voglio perché sono a casa mia. Ok? Va bene. Non so se l'avete mai notata sta cosa che si può colpire qua e fa scintille, letteralmente. Va bene, l'altra volta abbiamo fatto il livello bonus, l'altra volta per voi parecchi episodi fa, un paio di episodi fa, ma dovete sapere che mi si era cancellata la partita, quindi ho dovuto rifarmi tutto da capo tramite l'uso di mio fratello. Ho sfruttato mio fratello per riottenere tutto ciò che avevo perduto e anche qualche reliquio di platino in più. Ma non importa, infatti abbiamo un platino e nove oro. L'altra volta non mi ricordo quanti ne avessi, ma credo più o meno così. Allora, dovevamo fare le reliquie di questo livello, quindi ci dobbiamo dare una mossa. Ah, tra l'altro non l'avevo già provato. Mi pare di sì, l'avevo già provato. No, ho già sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Non importa, non importa, non importa. Qua non conviene accelerare perché... Se dovessi accelerare rischierei di perdere il controllo della barca qua e non riuscirei a prendere questa cassa qua. Ok, dai, veloce, crash, veloce. Eh, niente, devo fare il giro, devo fare il giro. Perdita di tempo, perdita di tempo. Dai. Non mi ha colpito, non è vero. È una bugia palese. Va bene, non importa, accetto il danno, accetto il danno, il rischio. Ok. Ok, qua c'è il rischio di morire contro i pesci palla. Qua ci sono le nitro, vero? No? Non ci sono più le nitro? Mannaggia, ho perso una cassa. Qua neanche lo zaffiro prendo, neanche lo zaffiro. Eh, va bene. Aku Aku, salvezza della mia anima. Eh, va bene, perdo tempo. Ok, su, 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 su. Non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, dai. Uh. Qua ci è mancato poco, eh. No, non va bene così. No, sbaglio sempre tasto. Non volevo accelerare, non volevo accelerare. Forza, forza, morite squali, morite, 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 morite. Ok. Non devo perderla, non devo perderla, non devo perderla. Non voglio rifarmelo. Ok. Eh, zaffiro, lo sapevo. Vabbè, non importa, non sto puntando a tutti gli ori e i platini. In realtà sì, però non importa. Ok, allora, eliminiamoci un po' di nemici intanto. Per partire comodamente. Questi livelli sono piuttosto complicati, anche appunto. Ho già, ho già perso una marea di tempo. Ok. Eh, maledetto fuoco, non mi fa perdere tempo. Eh, qua. Qua si... È lentissimo, dai. A parte che come mi ha colpito quel tizio, là. Vai via, granchietto, scorpione. Poi, non ho mai capito che cacchio ci fanno degli scorpioni su... Su quelle cose, là. Per favore, sono retine per capelli. Ok. C'è anche il percorso di morte, non importa. No, 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 non mi fa perdere... Non mi fa perdere tempo, dai! Riavvio. Allora, tappeto, stavolta non ti perdo. No! Eh, dai, ok. Ho perso una marea di tempo, ma non importa. Quanto tempo sto perdendo, non avete idea. Qua il platino sarebbe già morto. È sepolto. Una che posso risparmiare tempo così. No, va bene. Ma perché ogni tanto subisco sti danni inutili? Inutili. Mi fanno perdere solo tempo. Dai! Zaffiro, ma no, dai. Che schifo. Che schifo. Sono fuori forma. I zaffiri non sono neanche contemplati. Eh sì, sono in grado di prendere anche loro qua. Certo, certo. Dovete le guardar. Che è? Sì, ha lodato il sole. Loda il sole. Ehi tu, tizio in macchina. Che non mi fa passare. Hai mai lodato il sole? Guardalo, guardalo. Ci ha provato di nuovo. Ci ha provato di nuovo. Uh, no, dai. Non l'ho toccato. Sono palesemente l'ho toccato. Lì c'è il livello segreto che vi dicevo l'altra volta. Che vi farò vedere tutto in un solo video. Ecco. Ok, superato. Ok, sto andando bene. Sto proseguendo alla grande. Non sto sbagliando un colpo. Deck. Prese tutte? Penso di sì. Ok, è un momento della velocità. Rallentare. PS1 step. Step. Curve erano un po' più facili da fare. Le hanno un po' peggiorate. Levati! Fammi passare! Lo tagliare da qua. No, dai. Ma perché le collisioni sono fatte a caso? Che palle. Ci passavo una volta da lì. Vabbè. E loro. Ce lo sogniamo. E vabbè. Ce lo sogniamo loro. Ce lo sogniamo loro. Va bene. È andata così. È andata così. Tra l'altro anche il televisore mi sta dando fastidio adesso. Che si sta per spegnere. Ma perché ti devi spegnere? Dico io. Perché ti devi spegnere. Ce lo sto usando. Ok. Neanche primo sono arrivato. Mannaggia. Qua neanche lo zaffiro. Zaffiro. Che schifo. Che schifo. Qua come al solito c'è un trucchetto per andare più veloce. Ma io non lo so fare. Tipo così. Uh uh uh. Non mi rompere. Va bene. Ciao. Acqua apposta. Via. In realtà si potrebbe usare. No. Dai. Si potrebbe usare il bazooka. In modo veloce. Però. È difficile. No. Volevo fare il trucchetto della velocità. Ma non ci sono riuscito. Stavo per farmi uccidere dalla rana. Non so se avete notato. Ho mantenuto la calma. E non mi sono fatto uccidere. Dai. Più veloce. Più veloce. Dai. Il platino lo vogliamo. Il platino su sto livello. Lo vogliamo il platino su sto livello. Io lo voglio. Dai. Platino. Oh vedete. Almeno su sto livello riesco a prenderlo il platino. Va bene. Ci abbiamo messo poco. Solo 16 minuti ad arrivare fin qui. Quindi posso fare anche i livelli di Cortex. Forse. Ok. Non si va mai a sinistra. Perché a sinistra non ci sono casse. Qua in realtà. La gemma l'avevo presa. Solo che nel rifacimento della partita. Non mi sono accorto che l'avevo presa. E quindi sono rimasto senza. Dai. Non è vero. Stavamo un po' di percorso. La cassa. No. Ok. Qua. Stiamo attenti. Ulleh. Dai. Qua. Ecco appunto. Ci sarebbero chiusi. Lo sapevo. No. Dai. Mannaggia. Perso di nuovo a Quaku. Ma almeno ho superato quella parte. Dovremmo essere quasi. Eh no. Non mi fa perdere tempo così. Dai. Ah. Non mi facevo male. Stavo di farmi male. Perso tempo. Perso un sacco di tempo. Eh. Qua perderò altrettanto tempo. Dai. Dai. Ok. Eh. Mi sa che qua anche... Anche qua prenderò solo lo zaffiro. Non mi importa. Avevo acqua apposta. Veloce. Ok. Oro. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Riesco a farne un altro paio. Tutti non riesco a farli. Credo. Bisogna andare completamente a caso. Quindi. Adesso andiamo verso l'orologio. E spariamo. Vai. 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 A dirigibili. Muori. 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 Uno. Muori. 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 E due. No. No. Oh. Come si evitavano i colpi? Vabbè. Con X. Ok. Adesso questo. Un altro. Forza. 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 Ok. Dai. 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 Mori. 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 Quale manca? No. Lontanissimo. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Dai. Forza. Dai. Non so quanto abbia fatto. Zaffiro. Eh. Lo sapevo. Che cavolo. Ma che puntata brutta. Solo zaffiri. Questi livelli sono quelli che odio di più in assoluto. Sono fastidiosissimi da fare. Che altro perché più veloce di così? Come cavolo si va? Dove devo vedermi i video di... Dei maggiori esperti di Crash Bandicoot. Per capire come cavolo facciano ad andare più veloce di me. Marezzo gabbiano. Lo so che mi avresti ucciso. Ho scelto la direzione giusta. È quella più breve. Ok. Aquaku. Pruzza. E tuttora, dopo vent'anni, non si sa ancora cosa ha Aquaku. Dica. Quando viene preso. Ok. Ho tagliato. Però mi sono preso un colpo. Non importa. Spero di trovare un altro Aquaku in giro per la mappa. Sto andando più veloce che posso. Ok. E gira. Riesco a girare. Ok. Ho perso un sacco di tempo qua. Non morire, non morire, non morire. Merda. Ah, qua devo stare attento. Perché se prendo una botta è finita. Ok. Andando di qua dovrei essere al sicuro. Credo. Perfetto. 52 secondi, eh. Aquaku. Salvezza. Perfetto. Dai, ce la facciamo fare first try. Madafaka. Ole. Oh no. Ok. Oh no. Yeah. No, le casse. Cavolo. Questo è stato un errore imperdonabile. Che mi costerà il platino, vero? Mi costerà il platino. Ero quasi arrivato. Cavolo. Dai, 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 dai. Oro. Eh, lo sapevo. Mi è costato il platino quello sbaglio. Peccato. Peccato. Vabbè, almeno non è uno zaffiro. Sigh. Non gattonare, Coco Non gattonare Dobbiamo mantenere gli acquacu Adesso Ok Ma così Perdo un sacco di tempo Per mantenere gli acquacu Ok Ok Acu, acu, dai Ok Adesso risparmieremo un po' di tempo Veloce, 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 veloce Dai, non sbloccare Ok Non ho bisogno di voi In realtà sì, però Ok 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 Uh Sul filo di un rasoio No Le casse Fan Culo Oh, entra Platino Vai così Vai così Vai così Pensavo di fare molto peggio Uh, sto sudando Dai, ultimo livello Ce la facciamo Ce la facciamo Dai Ce la facciamo Cazzata Questa è una cazzata Palese Ok Va bene Dai, 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 dai Ho perso un sacco di tempo in sto pezzo Adesso Adesso Nessun problema Qua se non c'hai un tempismo perfetto È difficile fare i certi record La gente qua calcola Il percorso al millisecondo Ho paura di morire Muoio se rimango sott'acqua con Super Aquacu Non voglio rischiare Ah, non si alza l'acqua Ah Figata Ho risparmiato un sacco di tempo così Oro Nonostante ciò ho fatto solo oro Vabbè, direi che per sto episodio ci Lasciamo Qui E ci diamo appuntamento al prossimo episodio Sempre in outfit estivo Perché ormai siamo in estate Si suda Si brucia Si combatte per la libertà Grazie a tutti e ci vediamo Ok Coco, dai, festeggiamo un'altra volta Grazie a tutti Grazie a tutti